Benvenuti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Oggi esordiamo parlando di politica, soprattutto di politica che concerne il territorio di Valderi. C'erano in studio due consiglieri comunali, in particolare Giussi Lombardo, consigliere comunale della maggioranza, e Gianfranco Palermo, consigliere comunale della minoranza, e ben arrivato anche a Gianfranco Palermo. Il veterano è la novizia, ho voluto alternare in questa parte di trasmissione. Il veterano va da sé, è tutti in odo, è Gianfranco Palermo, ormai ha una certezza in quel di Valderi, non solo per quanto riguarda i consensi, ma anche per la sua attività da consigliere comunale, è stato anche assessore negli anni passati, e invece alle prime armi, anche se è già dimostrato avere le idee chiare, il piglio giusto, Giussi Lombardo, eletta appunto nello schieramento a sostegno dell'attuale sindaco Francesco Stabile. Come state? Molto bene, grazie. Bene, questa estate vi sta facendo rilassare oppure vi tiene impegnatissimi? Ah sì, no, è diciamo una via di mezzo, perché ovviamente parlo per me, essendo una niveletta, sono diventata portavoce della cittadinanza, perché mi prendono come punto di riferimento naturalmente, e questo è una delle caratteristiche che mi fa piacere, però allo stesso tempo spero di riuscire a dare delle risposte nel tempo. Che tipo di risposte si possono dare? L'hai già compreso? E diciamo che non è una situazione molto semplice, perché essendo una prima esperienza ancora devo capire bene i meccanismi di tutto il sistema. Sappiamo benissimo che la burocrazia non è facile, i tempi per la risoluzione delle varie problematiche non sono molto brevi, per cui abbiamo cinque anni davanti per dare le risposte che servono. L'importante è quello di dimostrare di essere seri e attaccati al territorio. Penso che i consensi che ho ricevuto siano anche la risposta del mio atteggiamento nel tempo, perché ho sempre dimostrato di essere disponibile con chi mi è stato attorno e quindi ne ho avuto un bel numero di voti ottenuti nelle elezioni di Lombardo. Non sono paragonabili a quelli ottenuti da Gianfranco Palermo, ma lui appunto è un veterano delle campagne elettorali. Gianfranco, come sai? Ti vedo pensieroso. Sto bene, ci stiamo dedicando un po' anche a farci qualche giorno di riposo, ma non abbiamo abbandonato di un centimetro del terreno e di osservare quello che sta facendo l'amministrazione in questi tre mesi. L'amministrazione in questi tre mesi è davanti agli occhi di tutti, che è un'amministrazione di continuità, è stata un'amministrazione stabile, quindi è rimasta sempre stabile. La gente ha preferito di rimanere ancora stabile con questa amministrazione, va rispettato il dato elettorale degli elettori. È netto a favore della... Ma guarda, direttore, è giusto riconoscere anche la sconfitta, perché è stata una sconfitta schiacciante, perché un sindaco che prende 1500 voti di differenza rispetto all'altro gli va riconosciuta la vittoria, perché democraticamente è stata una vittoria. Di certo anche noi abbiamo avuto una sconfitta, ognuno di noi, compreso me stesso, dobbiamo passarci la mano sulla coscienza per fare anche un esame di quello che è successo in questi anni, perché intanto vanno ringraziati tutti i consiglieri comunali della lista La Scelta, i 16 candidati della lista La Scelta, per chi hanno permesso l'elezione in Consiglio Comunale, il consigliere Baiata, Palermo, Catalano e Blunda. Il massimo di che corre entra in Consiglio Comunale tramite la legge regionale, che permette che il primo sindaco che viene eletto diventa consigliere Comunale. Vanno ringraziati anche tutti i sostenitori che hanno permesso e collaborato per questa lista La Scelta. Vanno ringraziati anche, e lo dico in maniera molto chiara, gli onorevoli parlamentari e senatori che nel periodo della campagna elettorale li ho visti presenti anche sui palchi dei comizi, non me ne frega niente, diciamo, lo dico direttamente, li ho visti soltanto presenti nei comizi, ma a casa della gente non è andato nessuno a cercare voti. Di certo la colpa è un po' di tutti per la sconfitta. Giustamente sconfiggere anche un sindaco scente, che è stato un sindaco populista, perché era avallato da tanti media, da tanti personaggi che mettevano in evidenza il nulla cosmico, perché mettevano in evidenza l'apparescenza di tante cose che non esisteva nulla. È un po' ingeneroso questo commento, visti i voti, insomma, presi da... Di certo, di certo, di certo. Evidentemente qualcosa avrà lasciato ai cittadini, dico... Ma guardiamo, guardiamo... I 500 voti, tu stesso lo sottolinei, non sono semplici da ottenere in giù. Lì molti cittadini avranno lasciato qualche promessa, che alcuni in queste ore, direttamente anche nella zona di Bonagia, pensano come mai ho votato lui, perché farsi la foto davanti il depuratore di Bonagia, ancora tutt'oggi, e non è entrato in funzione, parla chiaro. Se andiamo a Bonagia, che siamo totalmente al mare, nelle grandi onde, andiamo a vedere le muciare, che lei sa, storia di queste muciare, che anche qualche giornalista locale ha fatto un po' di avallamento sulle muciare, quando c'è stato lo spostamento, grande azione. Però ora qualche giornalista locale non ha fatto più nessun articolo sulle muciare. Perché? Perché le muciare sono in condizioni pietose, se vai a vedere là davanti a Bonagia c'è chiodi dappertutto, il legno che cade a terra e tutta questa sedazione. Però è importante che negli anni si è cambiato il senso di marcia del via del mare due volte. Uno per prima favoriva qualche altro che aveva questa idea e poi l'hanno rifatto di nuovo all'incontrario, perché qualcuno, magari che era un imprenditore, voleva l'immaginazione senza chiedere neanche a parlare alla provincia per cambiare il senso di marcia. Noi dobbiamo guardare Valderici in maniera diversa. L'amministrazione è stabile, già ha governato cinque anni, sta continuando a governare, è stata premiata nuovamente. Ha una squadra di assessori, lo dico in maniera molto sincera, assessori molto competenti, che ancora tutt'oggi, per esempio, noi non abbiamo neanche un bilancio, noi non abbiamo un bilancio nel comune di Valderici, il quale assessore al bilancio è il collega Gian Rosario Simonte, che è un tecnico, un commercialista, ed è stato assessore con Giacomo Tranchita, è stato assessore anche con Daniela Toscano, quindi segretario del Partito Democratico. Ma ancora il bilancio non è riuscito a portarlo tra i banchi del Consiglio Comunale. Quindi l'assessore Gian Rosario Simonte non può prendere scuse che abbiamo problemi di bilancio, perché cinque anni fa c'era un suo predecessore che era l'assessore Giuseppe Martinico, oggi che siede nei banchi del Consiglio Comunale, quindi Martinico avrà fatto il lavoro, quindi se l'assessore Simonte ha delle difficoltà significa che l'assessore Martinico non ha dato un contributo ben preciso, quindi se l'assessore ha il bilancio, se non riesce a portare ancora il bilancio in Consiglio Comunale, io lo invito ad accomodarsi alla porta e chissà fare l'assessore da qualche altra parte, perché lui era disegnato assessore anche da Antonella Dragna a Buseto Padezzolo, non è riuscita Antonella Dragna, e mi dispiace perché è una brava ragazza con grande competenza di sindaco di Buseto Padezzolo, dopo quattro giorni lo vediamo nominato assessore a Valderice, quindi diciamo che ha perso una poltrone e ha preso un'altra poltrone alla soffa. E' comunque un professionista riconosciuto nel suo campo, uno che riesce a fare l'assessore in tutti i comuni e anche persona di fiducia di Giacomo Ranghita, che è stata persona di fiducia di Giacomo Ranghita, diciamo che era il segretario del Movimento Ricicchia Puglia. Quindi da questo punto di vista avete qualcosa in comune? Abbiamo qualcosa in comune, però lui ancora tutt'oggi non porta il bilancio, magari sarà impegnato con il fantacalcio, che ora si inizia il fantacalcio a Valderice, lui è appassionato, però io lo invito a portare il bilancio in tempi celeri, perché il bilancio è uno strumento finanziario importante, dove i consiglieri comunali hanno il diritto di avere il bilancio per lavorare e anche per osservare quello che fa l'amministrazione, ma se l'assessore non porta il bilancio... Ottima osservazione, le facciamo nostre, l'appello, l'invito all'assessore è stato lanciato. Visto che sei partito già subito in quarta, come il tuo solito del resto, sei ospite anche per questo, io ti chiedo un commento, non tanto sull'elezione di Giussi Lombardo, ma sul fatto che Sabili abbia portato in Consiglio persone nuove, assolutamente outsider del voto, come per esempio Giussi Lombardo, insomma tu che te ne intendi di consensi, come lo giudichi il risultato ottenuto dalla collega consigliere Lombardo? Io giudico il risultato ottenuto da tutti i consiglieri comunali per bene, perché sono tutte persone per bene, mi è contento di aver visto in Consiglio umano delle figure giovani e diverse, quale queste figure, senza offesa, vanno anche messe in evidenza tutte le situazioni che ci sono state nel tempo del Comune Valderice, persone per bene che cercano di dare il contributo a Valderice, come l'ho dato io negli anni passati, e vedere una signora Giussi Lombardo, vedere anche la dottoressa Baiata che è entrata in Consiglio comunale, persona per bene, il Pietro Catalano, cinque anni di consigliere comunale oggi, altre figure dell'opposizione che sono consiglieri comunali, diciamo che nella maggioranza c'è un po' di rinnovamento C'è un po' di rinnovamento in Consiglio comunale nella situazione della maggioranza, ma c'è anche qualche, senza offesa, Carcassa che ha fatto l'assessore con Camillo Jovino, che ha fatto l'assessore con Francesco Stabile, Presidente del Consiglio, quindi diciamo che però questi personaggi possono dare un contributo a Eneo consigliere eletti anche, e mettere in evidenza tante cose. Una cosa la devo dire chiara, perché ce l'ho qua da molto tempo, perché in Consiglio comunale a giugno, quando c'è stata l'elezione del Presidente del Consiglio... Sì, ma ti vuoi giocare tutte le carte adesso? Abbiamo mezz'ora... Io devo dire questa cosa, i veterinari, i consiglieri comunali, giustamente, sono anche strumentalizzati dalla politica in parte, perché non è che sanno tutto della situazione. I consiglieri comunali di maggioranza, cosa anomala, nove consiglieri su undici hanno votato in Consiglio comunale come Presidente del Consiglio, al grande Camillo Jovino, ex sindaco di Valderici. Persona storica politicamente, che negli anni passati, da un articolo del 7 aprile del 2014, è stato anche condannato un anno e quattro mesi per aver falsificato il piano dell'Europa pubblico giornale, è cambiato le carte, quindi c'è anche l'articolo che lo dice. Poi il signor Camillo Jovino è stato anche nelle capacità di farci citare anche sul libro Matteo Messina Denaro, l'invisibile, perché c'è citato il Comune di Valderici, il quale invito tutti i cittadini a leggere questo libro, specialmente nelle ultime pagine, perché a me piace leggerlo. Ovviamente Camillo Jovino, quando vuole, può replicare benissimo alle affermazioni che può fare. Però io dico, i consiglieri comunali hanno votato tutto ciò, hanno votato anche a Presidente del Consiglio comunale una persona che da sindaco, ci sono dei delibere che parlano, ha sperperato il denaro pubblico con l'acquisto dei mezzi militari della caserma Giannettini all'epoca e portati all'autoparco, il quale è sottoscritto per i due anni di assessori che ha svolto, ha dovuto rottamare quei mezzi, a costo zero per i cittadini, con grandi sacrifici. I mezzi militari, forse il sindaco Camillo Jovino pensava che dovevano andare in Russia per fare la guerra. Giussi Lombardo, non ti chiedo una difesa d'ufficio, se la vuoi fare, ovviamente libera di farla, ti chiedo un contrattare, un commento in generale, dal tuo punto di vista, non tanto sulle disquisizioni di Palermo, ma sulla situazione che si vive per la Palermo in Consiglio comunale. Penso che la squadra che è stata costituita dal sindaco stabile sia abbastanza eterogenea e ogni persona può dare il suo contributo. Io penso di poter soprattutto cogliere il meglio da ognuno di loro e di venire anche a conoscenza di tutti quei sistemi che permetteranno al Consiglio comunale di ottenere risultati tangibili per tutti. Per contrattare, diciamo, controbattere quello che diceva Gianfranco, perché lui, diciamo, sottolineava la questione che durante il voto del Presidente del Consiglio comunale non siamo stati in grado di raggiungere 11 voti della maggioranza. Diciamo che anche in questa situazione ognuno, pur facendo parte di un gruppo, può avere le sue idee e quindi anche essendo all'interno di un insieme eterogeneo di persone, sottolinei la questione, infatti si è discostato dal resto delle persone. Quindi questo, a questo dire, sottolinea, insomma, democrazia e non siete degli yes men, diciamo così. Esattamente. Quindi è un segno positivo. A mio avviso, sì. Poi però, insomma, la maggioranza in questi mesi come risultato? Compatta. Compatta, sì, in questi mesi. Però ancora si può dire che non siamo entrati nel vivo proprio del lavoro. Certo, c'è pure l'estate. È stato veramente poco. Sul bilancio? Quello che abbiamo... Sul bilancio. Gli devo dare ragione, ancora non ci sono risultati, per cui conto che nel periodo più breve possibile il collega Simonte possa ottenere, diciamo, un risultato e far sì che il nostro Gianfranco sia più contento, insieme a tutti noi. E anche più sereno. Questi primi mesi da consigliere comunale, come li stai vivendo? Dammi subito un giudizio, insomma, di là dell'impegno che già hai detto. Sì, diciamo che mi vedo appunto come punto di riferimento anche per questioni futili, perché ormai sanno dove trovarmi, sanno che possono dirmi tutto quello che gli passa per la testa e io... Giusto. Quindi vai, riblocco note... Esatto. Ho un'agenda in cui mi scrivo tutto, chi me lo dice, quando me lo dice, il giorno che me lo dice. Io lo riferisco e quando otterrò un risultato me lo segnerò. Quindi lì capisco che, insomma, la prima cosa da imparare è quella di conoscere gli uffici e sapere quando e come beccavi. Esatto. Salendo mani delle elezioni mi sono presentata appunto, sono andata a conoscere tutti i vari responsabili per capire con chi parlare. Ma tu ti aspettavi tutti questi voti? No, in realtà no. Devo ammettere che mi aspettavo un bel po' di voti, ma chi ha più esperienza mi diceva sempre, su 100 persone che ti dicono, che ti danno il voto, se ne ottieni 40, 50, sei fortunata. E devo dire che... E invece tu, sulle 100 che ti dicevano sì, ne hai ottenuti altre volte di più. Sì, 417 intanto. E' stato un risultato veramente eccezionale. Beh, questo... Come prima esperienza. Assolutamente. Questo ti costringe proprio. La fiducia che mi è stata riposta voglio ripagarla. Hai avuto modo di girare in questi mesi per Bonagia, per esempio, le frazioni, il territorio valdericino? Sì, principalmente diciamo che sono il punto di riferimento della mia zona. Certo, quindi Crocevie. Zona sud di Valderice, Crocci, Chiesa Nuova, Crocevie, Casalbianco, anche se abbiamo Gianfranco di Valderico. Lì, Casalbianco li fa il boss del voto Gianfranco. Sì, ne dicono ovviamente di cotte, di crude. Cosa c'è che va migliorato subito? La polizia delle strade soprattutto, perché è un argomento molto pesante anche da digerire. Tutte le problematiche che ci sono ci permettono, cioè in un certo senso ci mettono in risalto che è una situazione che non va in questo momento. Mi ricordi in quale commissione sei tu, consigliata? Prima commissione, statuto, cultura, turismo, non fa parte dei miei compiti. No, vabbè, però insomma, come commissione nuova, come consigliere comunale certamente sì. È sempre un argomento che cerco di sottolineare giorno dopo giorno perché mi segnalano molti disservizi e quindi è giusto il prima possibile dare dei risultati. Gianfranco, che suggerimenti possiamo dare a una giovane consigliera di maggioranza per essere ancora più incisiva per il bene della collettività? Qua non si tratta di farci la concorrenza, giusto? Io per il bene della collettività la giovane consigliera comunale la invito a continuare a fare il lavoro che sta facendo perché noi siamo punto di riferimento dei cittadini che ci hanno votato. I cittadini ci hanno portato in consiglio comunale per rappresentarli e dire la realtà come sta, o nel bene o nel male. Mettere in evidenza le cose tutte, quello che non è stato fatto negli anni passati, lei non lo sa, ma è stato così, perché si metteva in evidenza soltanto quello che, come si deve dire, appattava per immaginazione. Sono sincero, anche pure molti giornalisti locali, io non mi fidavo molto dei giornalisti, perché i giornalisti fanno sapere le notizie, a volte quelle che possono emergere migliori, altre notizie le tengono nei cassetti. È un'autopinione che capisci benissimo, non solo non condivido, ma contesto, ma insomma c'è libertà di parola, di pensiero. Perché quando si mette in evidenza la striscia pedonale fatta di notte, che è sempre stata così fatta, sia a Valderici che nel tutto il territorio provinciale, e non si mette in evidenza l'articolo che manda Tizio o Caio, consigliere comunale, che al cimitero di Ragosia siamo saturi, e oggi, come d'altri giorni, io sono sempre presente su questa situazione del cimitero che o presto o tardi ognuno di noi, senza offesa, raggiungerà quel posto e deve raggiungere con dignità. Non può raggiungere il cimitero ed essere traballato a destra e a sinistra 5-6 volte perché non c'è posto al cimitero. Signori miei, 5 anni di amministrazione stabile, siamo a sesto anno, ancora tutt'oggi, ci vorrà minimo, prima di partire per i lavori, fare qualche posto al cimitero, ancora un altro anno e mezzo, un anno e otto mesi. Nel frattempo i morti vanno girando a destra e a manca, ed è vergognoso. Ed è una situazione che interessa tutti, non c'è né maggioranza e né opposizione. Io la cosa che dico... Il Giambardo ha qualcosa da dire in merito? No, no, è la realtà dei fatti. È una realtà dei fatti, assolutamente. È una realtà dei fatti, signor. Le cose vanno dette. Ci sono anche tempi tecnici. Ci sono vari tempi tecnici, però si è stati dormienti su questo argomento abbastanza delicato. Invece io dico a qualche mio conoscente del comune di Valderice, invece di farsi la fotografia appoggiata a guardarrail sulla strada Valderice-Erice per far capire che i guardarrail sono stati montati anche dalla sua persona, ma i guardarrail sono stati oggetto della situazione dell'ACI che sta sistemando la strada per favorire le corse. Uno fa populismo, si mette appoggiato a guardarrail, sono andato a controllare i lavori, io ti invito a farti la fotografia appoggiata a guardarrail, magari ti metti il naso rosso e la parrucca, quella da clown, e te la fai nel canale di Via Po, nel canale di Via Barca, te la fai nel canale di Lenzi, pure se qualche canale appartiene al Geno Civile, ti fai la foto e gli dici siamo nel degrado totale, il comune non ha soldi, voi siete senza soldi, ma dobbiamo pulire i canali perché a settembre arriveranno le prime acque e potrebbero fare danno, invece questo non si fa, si vede soltanto quello che è l'apparizione, però non si vede il degrado, io devo dire chiaramente, lei ha parlato come fa, vedevo gli incendi che stanno succedendo in queste ore, devo dire grazie, ma grazie, pur se ha fatto un gesto bruttissimo, ma lo dico pubblicamente grazie a chi ha dato fuoco all'incrocio di Carminello, Crocci, Casano, Casano e Bianco, perché grazie a chi ha dato fuoco vicino alla struttura sportiva della provincia di Trapani, dove è stato ottenuto un venenzamento di un milione di euro, tanto pubblicizzato anche sui palchi dei comizi del sindaco, chi ha dato fuoco lì a questa struttura è riuscito a garantire un po' di pulizia, di viabilità, perché non si vedeva nulla, le sterpagli uscivano due metri dalla strada, grazie a chi ha dato fuoco, ora si può passare mai a tranquilla, però la provincia questa mattina, come ieri, quasi 30 dipendenti che stanno pulendo la strada di Erice, Valderice, Erice, solo perché c'è la corsa e devo dire grazie all'ACI, lo dico chiaro pubblicamente, grazie a tutti voi che organizzate la corsa ogni anno a Erice, perché grazie a queste corse si pulisce la strada, viene sistemato l'acqua e il muretto, questa mattina c'era l'impresa davanti al Garden Pub che stavano facendo i lavori di ripisto e un po' di asfalto, perché non lo facevano nel mese di maggio o di giugno i lavori di asfalto, i turisti così vedevano la strada sistemata, non che i turisti erano in grande perico, a questo punto invito l'ACI pubblicamente ad organizzare tutte le corse possibili e immaginabili su tutte le strade inerente che ci sono sul territorio di Valderice, così c'è un po' di pulizia, di manutenzione. Gianfranco Palermo è sempre stato, insomma un po', lo conosco da quando ha iniziato proprio, è sempre stato un po' esagerato, mi distorcio dai ringraziamenti anche se fatti in senso polemico, ha chiamato fuoco, mi distorcio totalmente, so che c'è la vena polemica per mettere in giusto il fatto di asfalto, il comandante dei Vigili Urbani, va sollecitato all'amministrazione pubblica a 360 gradi nell'essere più puntuale, ma il ringraziamento è chi dà fuoco, assolutamente mi distorcio. Il comandante dei Vigili Urbani, Vito Simonte, che fa tre giorni a Valderice e tre giorni ancora a Pantelleria, qualche 15 giorni fa ha fatto un articolo dove invitava ai turisti a mantenere la sicurezza, come si fa a mantenere la sicurezza? Che gli ho detto due mesi fa, vedi che all'ingrocio, scendendo da via Mandia, dove c'è l'officina meccanica, c'è un divento di stop, di stop. Lui fa l'oppositore, giustamente, e di niente è facile, ma dai banchi della maggioranza, questo tipo di opposizione, voi la condividete o magari preferireste che fossero più, non dico malleabili, ma più propositivi invece che contestare? Come dicevo prima Gianfranco, perché prima chiacchieravamo, prima di incontrare te, dicevo che ci sono anche modi e modi per dire le cose, assolutamente, penso che bisogna anche essere incisivi, ma con moderazione, perché molto spesso non condivido il suo modo, diciamo, di essere troppo schietto addirittura. Certo, la verità fa bene a tutti, ma bisogna anche poi saper agire, perché non è detto che dire quello che si pensa possa sempre portare buoni risultati. Cioè, quantomeno metti il risalto, ma proponi le soluzioni. Esatto, e mi dissocio anch'io dalla questione dei piromani. Ma scusa, il piromani, chi fa degli incendi è un grandissimo codardo e vastaso, però quando tu segnati delle situazioni di abbandono e di pubblica sicurezza che non vi è pulizia nell'incrocio, che gli incroci dovrebbero essere belli puliti e liberi, e poi vedi che gli hanno appiccato il fuoco, chi passa, dice, ringraziando a Dio ci resero fuoco perché non si vedeva niente, realmente è tra le fatte. Il comandante di Vigilobane non ha segnato nulla, e per esempio, come per esempio all'incrocio del bullying, e davanti di occhi tutti passano carabinieri, polizia stratale, Vigilobane, assessori, di sicuro passerà qualche amministratore quella strada, non si accorgono che c'è la tabella dello stop ed è coperta dall'erbacce, ma è una tabella coperta dall'erbacce. Dici, ma tu vai sul territorio, io sono un consigliere di Valderice, consigliere dell'Agro Ricino. giusto o no? È molto sincero. Ci sono delle cose anomale, per esempio io la cosa che invito anche alla maggioranza, questa maggioranza di Valderice e gli assessori, invito anche al direttore dei lavori Cervarolo, che è il direttore dei lavori che stanno facendo i lavori a San Marco, per il ripristino della situazione di San Marco, cioè, signori miei, è davanti agli occhi di tutti, che il pavimento che è stato installato a San Marco, se ci facciamo una passeggiata, è da rifare di nuovo. Le piastrelle, hanno montato le tende piastrelle rotte, ma nessuno se ne accorge, questi sono lavori che pagano i cittadini. Se questo direttore dei lavori non è in condizione di fare il direttore dei lavori e non vede quello che ho visto io, va a fare il direttore dei lavori da altre parti. E' giusto o no? Perché il direttore viene pagato con i soldi pubblici. L'hai segnalato questo all'amministrazione, consigliere? E' stato anche segnalato questo, ma signori miei, ma là ci sono andate a farsi le fotografie, che sono fatti i lavori, ci vanno a volte alcuni assessori a farsi delle foto. Come per esempio c'è stato qualche assessore che negli anni passati ha fatto degli articoli all'ospedale Rocco Larussa, con il presidente Musumeci, che a giorni iniziavano i lavori, che dovevano fare non si sa che cosa. Ma i Musumeci sono andati a Roma ringraziando a Dio e potrebbe stare a Roma, spero che ci sta, più spesso si va, tanto niente faceva la regione, niente farà là come mi diceva. Giusto Lombardo, se ne vuole pazienza, insomma, per combattere questo. Ma questa è una virtù che per fortuna ho. Come chiudiamo questa trasmissione? Dallo tu un consiglio al consigliere Valerio. Ma io gli consiglio di stare tranquillo, proprio. Sei portavoce della comunità, però non ti agitare. No, ma io non mi agito, io sono abbastanza rilassato. È il mio modo di essere. Ognuno di noi è il modo di essere. Il mio modo è questo, è sempre stato. Io ho una grande capacità, quello di litigare anche con me stesso. Vedete, io ho questa grande capacità, quello di litigare con me stesso. Quando vedo le cose che non vanno bene, sia dalla parte del centro-destra che del centro-sinistro, io le metto in evidenza. Sono stato battitore libero per questo. Non ti nascondo a dire che alcuni politici delle zone limitrofe che pensavano di collaborare con l'amministrazione di Gregorio, nel tempo della campagna elettorale, nel periodo della campagna elettorale, indossavano un piede 41, un piede 42. Quindi non hanno aiutato molto all'amministrazione di Gregorio. E questo mi dispiace. Però ognuno si assume le responsabilità di quello che fa. Io sono stato una persona che ci ho messo la faccia e continuo a mettercela. Di certo, l'indomani dell'elezione del sindaco stabile mi è venuto subito da ridere quando l'ho vista a Crocevie con gli stivali gialli per pulire le catetoie. Mancava solo il cagnolino di Patrizia Bessise. Se uno fa... No, non è che fa. Qualche cittadino mi ha detto sono passato da là, si stava facendo la fotografia... Era l'indomani dell'elezione. L'indomani, giusto, giusto. Perché se questa cosa succedeva prima, forse anche il cittadino a Crocevie non ci votava. Ci votava anche il cittadino a me. Sembrava appunto fatto apposta per la campagna... E io sono... Non farmi fare difensore... Esatto, poi guarda... Vedere in questi ultimi periodi che sto vedendo cose assurde sui social... Facebook, amministratori, assessori che rispondono, che scrivono, che criticano il cittadino... Il cittadino mette in evidenza una situazione. L'assessore di turno scrive... Io per esempio ci sono assessori che stimo, assessori veramente che stimo. Li stimo, senza offesa, perché hanno una bella professione e sanno fare la loro professione. Magari saranno assessori per 4-5 mesi soltanto pro tempore perché hanno portato qualche voto tramite la sanità. Però dico, che facciano gli assessori e non facciano i critici anche su Facebook. Perché un medico che fa il critico su Facebook significa che non ha... Beh, ognuno va avanti. Ognuno va avanti. Però da medico lo stimo, da assessore gli dico sei stato messo lì semplicemente per arrivare a dicembre, massimo febbraio e poi ci sarà... Mi fa piacere insomma che non hai... Non sono un mago perché il mago... Con l'ospite che ti affianca sei stato insomma... No, io l'ho rispettata in consiglio comunale e l'ho sempre stimata e continuo a stimare sia lei che gli altri. Di certo, se al Presidente del Consiglio invece di proporci la figura di Camillo Jovino ci avrebbero proposto un'altra figura noi l'avremmo votata perché è ridicolo che un Presidente del Consiglio un Presidente del Consiglio viene eletto con nove voti su undici di maggioranza e il Vice Presidente del Consiglio Comunale la dottoressa Baiata viene eletta con sedici voti su sedici. Vuol dire che il nostro spirito di collaborazione... Loro vi hanno dimostrato apertura in vero. Certo, ma loro non hanno avuto apertura all'interno di due franchi tiratori che giusto e giusto hanno sbagliato a scrivere dicono, hanno sbagliato. Lo possono dire ai consiglieri novelli che hanno sbagliato a scrivere. Forse due consiglieri comunali Errare o Mano Errare o Mano Due consiglieri comunali che non hanno votato Camillo Jovino l'hanno votato per due motivi. Gianfranco, cinque anni devi stare lì a battagliare. Ce la faremo. Se già parti così arrivi scoppiato. Io starò in consiglio comunale fino a quando penso di starci. Perché di certo non nascondo a dire che si può dare anche spazio agli altri consiglieri della lista. Perché alcuni consiglieri della lista questa è una notizia guardate che forse se il Mano che alcuni consiglieri della lista si sangrà e lascerà il posto a qualcun altro per scoprire la lista. Io il posto ne ho soltanto uno ed è il posto che c'è a Derici di lavoro perché la partita io ce l'ho là. Più quello al cimitero che dicevi. Al cimitero poi ce ne andiamo più tanti possibili. Alcuni consiglieri comunali della nostra lista magari hanno la rabbia di non essere stati eletti consiglieri comunali di non essere stati eletti assessori è giusto o no? Alcuni consiglieri comunali della nostra lista devono invece collaborare con noi tutti e fare sinergia e creare un gruppo per il futuro di certo. Poi se qualcuno dopo la sconfitta è demotivato e pensa di fare un articolo Buon viaggio e buon cammino dall'altra parte. E' giusto e pensa di fare un articolo e scaricare la sconfitta ad un altro compagno di squadra è sbagliato perché signori miei non si addossano le colpe a nessun compagno di squadra le colpe ce le abbiamo tutti compreso me stesso ognuno ci facciamo un esame o non c'è un esame di coscienza Dall'Iruenza di Gianfranco Palermo specialmente quando qualche consigliere comunale che era candidato proviene da lì e non è da qui. Benavevi tutto l'abbiamo capito insomma così è fatto Gianfranco quindi non guarda in faccia del resto è battitore libero. Dall'Iruenza dell'ancora inquadrato Gianfranco Palermo alla pacatezza alla serenità della consigliere Giussi Lombardo chiudiamo con lei così magari insomma anche col sorriso lui è un po' torvo adesso sorride Giussi chiudiamo. Voglio ringraziare appunto tutti i cittadini che hanno creduto in me e spero di non delibere nessuno anzi di fare un ottimo lavoro e continuare questo percorso anche in futuro. Grazie grazie ai due qui presenti questa prima parte la consigliere Giussi Lombardo appunto consigliere di maggioranza sapete dove trovarla Gianfranco Palermo consigliere dell'opposizione lo trovate dappertutto e ne ha per tutti quindi non vado a arrabbiare perché lui è così è schietto sono fatto così la politica mi piace quando la politica diventerà seria stavo salutando nella seconda parte parliamo di testori sommessi con il gearcheologo professore Francesco Torre tra poco in questa seconda parte parliamo di ritrovamenti parliamo di storia parliamo di cultura con il professore Francesco Torre lui ha una lista di qualifiche che mi limita a condensare in geoarcheologo così come abbiamo scritto in sovrimpressione come stai professore? benissimo a posto studio sempre mi interesso sempre di geoarcheologia e di preistoria mi diletto moltissimo perché è la nostra storia perché Trapani è stata la crocevia di tutte le civiltà del Mediterraneo da Trapani si entrava in Europa hanno portato tantissima cultura ma noi trapanesi abbiamo anche dato cultura Trapani è la provincia archeologica più importante non d'Italia né d'Europa ma del mondo con Celinunte Segesta Mozia abbiamo le cave di Cusa Eilice eccetera poi ogni tre metri nelle nostre coste troviamo un reperto archeologico come avete potuto vedere questi giorni a Legadi insomma abbiamo di che raccontare sì nel Legadi oltre ai rostri il primo rostro l'ho trovato io a casa di una persona e poi attraverso le coordinate che diedi a Sebastiano Tusa si trovarono tutti gli altri rostri soltanto che i rostri che noi ritroviamo ci dicono che non c'è stata una grande battaglia tra cartaginesi e romani perché quando l'ultima pubblicazione che ho fatto ormai ne sono stati trovati tanti altri rostri ma nell'ultima pubblicazione sono stati trovati 23 rostri di cui 20 romani e 3 cartaginesi siccome i rostri romani e i rostri cartaginesi sono identici la scritta soltanto è diversa quel romano c'è il nome del console che ha finanziato l'impresa mentre in quello cartaginese c'è un'invocazione al diobal diobal colpisci con questa freccia la nave nemica poi per il resto sono uguali sono piccoli rostri perché quello grande che non si stacca dalla nave è il rosto di atlet ad israele ma noi non ne abbiamo di questi in queste battaglie che ci sono state tra cartaginese e romani si usano questi stessi rostri se una nave romana colpisce una nave cartaginese la nave romana fa marcia indietro poi usa il corvo che è una specie di passerella trasformando le battaglie navale in battaglie di terra dove loro erano più bravi ma se trovi il rostro romano devi trovare anche il rostro cartaginese della nave che è affondata invece abbiamo trovato fino a quando ho fatto io la pubblicazione 20 rostri romani e 3 soli cartaginesi questo che significa? significa che le navi romane colpivano non delle navi da guerra cartaginese ma navi da carico perché a Milcherebarca a Derice aveva chiesto il padre di Annibale Milcherebarca che era a Derice l'ammiraglio Milcherebarca aveva chiesto aiuto ai cartaginesi perché era circondato alla base dai romani nel 241 a.C. e quindi mandò una colomba chiedendo aiuto i cartaginesi fecero una grossa flotta commerciale accompagnata soltanto da navi di scorta e l'ammiraglio Annone tre cose che io ho rivisto su Polibio sono state queste che mi hanno messo in dubbio che non erano due flotte che si combattevano ma una flotta romana contro una flotta oneraria cioè navi commerciali primo i rostri che sono trovati 20 romani e solo 3 cartaginesi quindi andavano a colpire le navi romane due le navi le diceva Polibio nella sua scrittura che le navi cartaginerie erano formate non da marinai esperti come nella battaglia di Drepana che c'è stata nel 249 a.C. a Trapani dove 123 navi romane furono fatte prigioniere e gli hanno dimostrato i cartaginesi di essere molto più bravi 3 tra le righe dice Polibio che c'erano anche le ipogoghe le ipogoghe sono navi commerciali ricche piene di cavalli perché dovevano portare le anfore con i cereali l'olio il vino eccetera ad Amilcarbar Caderice dalla parte però est dove non era circondata il romano perché lì ci sono delle falese e le rocce cadono a picco quindi dovevano sbarcare a Bonagia per questo hanno preso dalla parte di Levanso e non tra Levanso e Famignano e venire nel porto di Trapani e loro li aspettavano dietro Levanso quindi ci sarà stata una vedetta dove oggi c'è il faro che li aveva visti partire il 10 di marzo da Marettimo e li hanno circondati quarto carta teoria i pescatori mie zii perché io sono figlia nipote di armatrice mia madre la figlia di armatori mia zia hanno tutti molto pescherecci mi dicevano che da 200 anni loro pigliavano anfore in questa zona dove ci sono i rostri infatti la chiamano zona di quartare zona di quartare è una zona di anfore perché? perché ricca di anfore perché erano ricche di cereali di vino di olio che dovevano portare là mentre c'erano pochi rostri rispetto alla quantità di anfore che lo hanno preso e quindi zona quartare significa che c'erano tantissime navi commerciali onerarie quinto l'ammiraglia Annone pur sapendo che scappando dalla battaglia ritornava a Cartagine e a Cartagine veniva a crocifisso è il primo esempio nella storia che abbiamo di crocifissione pur sapendo questo scappò dalla battaglia pur di non essere preso prigioniero dai romani perché sapeva di non poter combattere perché aveva navi commerciali e soltanto alcune navi di scorta e questa è la quinta cosa quindi dobbiamo chiamarla diversamente allora la battaglia di legati diventa una specie di strage io ho fatto una pubblicazione a livello internazionale su Memoria dei Fenici il direttore è il professore Enrico Acquaro che è uno dei più grandi storici e la professora all'Università di Bologna di Fenicio Punico e ora uscirà un libro sulla battaglia di Repana e la battaglia dell'Egadi per vedere la differenza fra le due battaglie ma intanto in questi giorni appunto come viene sottolineato dalla stessa soprintendenza del mare beh riscopriamo come dicevi tu che ogni tre mesi le nostre acque ci danno un reperto però sembra che negli ultimi anni insomma ci sia davvero non solo un grande lavoro di recupero dei reperti ma soprattutto una rinnovata passione anche in giro mi sembra di capire per i tesori sommersi perché tutti i ragazzi che fanno ora poi ci spostiamo pure a Marausa dove è in corso a Marausa abbiamo scoperto queste due navi io sto lavorando sulla seconda nave quella di Brascia cosiddetta che fu Brascia a scoprirla la prima è una nave di circa 13 metri che è del terzo secolo dopo Cristo la seconda invece che questa di Brascia su cui si sta lavorando finiremo entro settembre si finirà c'è una bellissima squadra di ragazzi molto bravi il direttore è Roberto Larocca che è un archeologo che si è lavorato con me all'università di Bologna dovrà averlo ostri nei prossimi giorni quando riesce è molto bravo e poi c'è il soprendendente che è una persona interdirettiva che si è preparatissima che è appassionato di archeologia subacquea pertanto lui insegnava archeologia medievale all'università di Bologna ed è molto bravo per cui stiamo cercando di aumentare le ricerche in tutto il territorio del Trapanese questa seconda nave invece è più piccolina è di 11 metri ed è del IV secolo un anno dopo è importante perché cominciamo a conoscere con questa nave la cuscitura dei paglioli vediamo come era formata questa chiglia ma sappiamo che queste erano delle navi commerciali generarie che andavano a trasportare vivere quindi cereali e olio dalla Tunisia a Trapani nella zona del Birgi dove ci dove essere sicuramente all'interno è stato individuato una zona dove c'era un emporio per cui quando c'erano del cattivo tempo queste navi affondavano dovete sapere che tutte le navi quando voi sentite dire che hanno trovato una nave cartaginese una nave romana eccetera non hanno trovato una nave romana hanno trovato resti delle navi perché tutte le navi che cadono nel Mediterraneo vengono mangiate dalla Teredo navalis la Teredo navalis è un vermetus che mangia il legno le sostanze organiche per cui dopo mille anni ha mangiato tutto ciò che c'è fuori se viene coperta la parte bassa quindi della nave che è rimasta sotto la sabbia sotto l'argilla o la posedonia questa pianta ha cercato di coprire parte del legno e allora quando ci sono delle mareggiate le sabbe o il limo se ne va e spuntano questi pezzi di legno e noi riusciamo a riprendere ma la nave viene mangiata mentre quando abbiamo fatto la spedizione scientifica agli americani con Robert Ballard e lo scoperto il titanismo nel Mar Nero abbiamo scoperto che nel Mar Nero abbiamo scoperto una nave bizantina quasi duemila anni fa con la cima ancora attaccata nell'albero intatta perché? perché la Teredo Navale non può vivere nel Mar Nero perché il Mar Nero che è 2240 metri al di sotto dei 100 metri è anossico cioè non c'è ossigeno per cui tutto ciò che cade al di sotto dei 100 metri rimane intatta e questa nave l'abbiamo trovata a 375 metri di profondità beh insomma è una grande situazione è fortuna insomma che ci fanno appunto ben sperare poterne ritrovare altre ma ho letto proprio in questo periodo d'estate che proprio nel canale di Sicilia si stanno ipotizzando addirittura resti di città sommesse io non ho ben capito insomma c'è che i soliti sognatori diciamo ecco dove era Atlantide una volta era lì nel canale di Sicilia è un po' di fantasia perché Atalante Atalante decideva che era dopo le colonna di Ercole ma fu sbagliato Platone perché mese due zeri in più perché per la verità quello di cui lui parlava era Santorini Santorini in Grecia che era un'isola o per ora un'isola dove vanno tutti a fare le vacanze che sprofondò e aveva una grande civiltà ed era proprio la zona di Santorini togliendo due zeri a finire proprio lì e poi abbiamo pure trovato nuovi vulcani sì noi abbiamo fatto fra le mie spedizioni scientifiche c'è stata una l'ultima che ho fatto con gli americani sempre con Robert Ballard con una nave scenograve abbiamo studiato tutti i vulcani sommersi dal Mediterraneo e abbiamo scoperto che il vecchio vulcano famoso a largo di Sciacca che è l'isola Ferdinandea è a tre metri di profondità sta venendo su quindi fra poco tempo verrà fuori di nuovo mentre nel 1830 andarono gli inglesi francesi e borbonici a piantare la bambiera e l'indomani mattina rimane solo con la bambiera in mano perché sprofondò il vulcano la notte alcuni anni fa alcuni palermitani hanno preparato una grande targa dove c'è scritto attenzione se il vulcano dovesse venire di nuovo fuori sappiate che questo appartiene alla Sicilia in modo che i francesi e gli inglesi stavolta non possono dire ma quello che abbiamo scoperto durante questa spedizione scientifica è una cosa a parte un pesce che l'immaginazione umana non può mai pensare che possa esistere un giorno lo possiamo vedere qui ve lo proietto ve lo faccio vedere che però adesso mi ha incuriosito che pesce è? no non me lo dico perché è un pesce caratteristico è particolare è un pesce che non può essere pesce è un pesce non è brutto grande i denti grossi non c'entra niente è un pesce particolare che uno dice ma questo come fa a stare questo pesce in profondità e abbiamo scoperto invece tre vulcani il Bavilof il Marsile il Palinuro tra la Campania la Sardegna e la Sicilia che sono uno a 2007 l'altro a 3002 l'altro a 1500 perché lì si sta formando un nuovo oceano si è sprofondata questa parte della crosta terrestre di 5000 metri in profondità e sono spuntati questi tre vulcani se dovessero è stesissimo se dovesse ritornare se dovesse venire fuori tutti questi tre vulcani dovesse venire fuori ma noi abbiamo studiato all'interno pure il catere abbiamo preso il gas abbiamo preso samples cioè pezzi di roccia abbiamo studiato se dovesse venire fuori procurerebbero una tsunami dieci volte quello dell'Indonesia ma anche se dovessero sprofondare perché non c'è più apporto di gas da parte e di lava e di magma è lo stesso perché se sprofondano mandano mandano in alto un'onda che produrrebbe grandi tsunami nella zona della Campania della Sardegna e parte nord della Sicilia ma ciò viene ogni anno controllato non c'è questo pericolo perché per ora sono fermi tranquilli quindi non diamo non mettiamo in ansia le persone perché è tutto a posto e poi vengono monitorati regolarmente ogni anno cosa possiamo fare per ognuno di noi o chi più chi meno ovviamente nel proprio ruolo per valorizzare tutta questa bellezza che abbiamo noi siamo mi metto a ridere perché è da 50 anni che lo dico oggi l'ho detto anche l'anno scorso l'ho detto al sindaco di Trabani e mi ha promesso che si interesserà di questo cioè noi siamo la provincia archeologica più importante al mondo e noi siamo l'unico capoluogo di provincia in Italia l'unico capoluogo di provincia che non ha un museo archeologico abbiamo un pezzo di storia e abbiamo anche fra l'altro una delle grotte più importanti al mondo che è quella di Levanzo oltre tutte le grotte che vanno da Trapani a Castellammare compreso San Vito dove ci sono tante grotte importanti dell'Uzzo quella dei Cavalli dove ho scoperto delle pitture quella di Bonagia Grotta d'Oli Polifemo dove ho scoperto pure delle pitture ma quella di Levanzo è a livello mondiale ebbene non abbiamo né un museo di archeologico né un museo di preistoria questa è una cosa molto strana abbiamo soltanto dei piccoli musei Partanna Marsala Museo Pepoli dove ci sono parte di resti archeologici e che i musei ce li abbiamo ancora percorribili diciamo in natura Segesta Serinunte Le Cave di Cusa e tu devi immaginare devi immaginare che Serinunte è una delle città greche più grandi al mondo e non ce l'ha nemmeno la Grecia devi sapere che Mozia è l'unica città fenice ancora esistente al mondo certo poi Serinunte arriva a Morgan e rovina tutta la magia insomma e poi abbiamo Segesta dove c'è un teatro e dove ci sono ancora i templi abbiamo Erice che è la città medievale ancora rimasta intatta abbiamo cose meravigliose e purtroppo e poi tutto quello che si sta trovando per ora a mare e gli studi che si stanno facendo abbiamo un'altra nave che è romana che è a largo di Bonagia dove ci ha lavorato il direttore dei lavori era proprio Roberto Larocca e abbiamo pensato di poterla prendere fra qualche anno pure ora bisognerebbe fare un museo navale dove ci sono tutte le navi non possiamo mettere un pezzo di nave qua un pezzo di nave là non ha significato il turista non può andare il turista deve andare se deve vedere una cosa bellissima trovata a mare come il satilo di Mazzara va a Mazzara ma se deve vedere le navi quella fenicia che è la nave di Marsala la punica di Marsala le navi romane va a Marsala e la vede al museo ormai diciamo che insomma il museo delle navi potrebbe essere di a Marsala anche se a Mazzara e anche se a Mazzara giustamente essendo là il luogo vuole che questa si rimanga a Mazzara ma già ce n'è un'altra simile a Marsala fuori da campanilismo ritengo che bisogna ottimizzare insomma poi anche le risorse anche perché questa nave essendo stata trovata a Marasa dove c'era l'emporio la gente può vedere dove arrivava dove sbarcava tutto il grano l'olio eccetera e questo potrebbe essere importante anche per lo sviluppo turistico di misili scemi anche perché è una piccola nave e non abbiamo menzionato Mozia Mozia è una delle zone più importanti al mondo perché l'unico esempio fenicio non ce l'hanno nel Libano dove c'era Tiro, Sidone eccetera non hanno quello che abbiamo noi quindi è rimasto intatto e poi c'è tutto uno studio meraviglioso su Mozia ho fatto una pubblicazione quando ero all'università a Bologna perché la strada che collega Mozia a Bergi secondo molti studiosi era stata fatta così appositamente per non farla vedere ma è una cretinata di quelle enormi così come diciamo nel porto il Coton che io ho detto ma tanti anni fa che il Coton non esisteva che non esisteva nessun porto a Mozia perché in quel periodo Mozia era 70 centimetri durante il periodo romano il livello del mare era 70 centimetri più basso e quindi non potevano esserci navi tant'è che non sono state mai trovate Mozia arresti di navi o ancore o altre cose simili va bene come chiudiamo questo bellissimo intermezzo chiudiamo chiudiamo con una speranza che si possa nascere a Trapa nel museo archeologico uno io speravo il più grande della Sicilia per ora è quello di Siracusa il più bello lì ci vogliono i finanziatori ci vuole un finanziatore che finanzi questo progetto e con la speranza che si possa ritrovare ancora e di fare ancora tante bellissime ricerche intorno alle nostre isole alle coste trapanesi perché ci abbiamo tanto ancora da trovare da scoprire grazie professore ci rivediamo è stato un piacere è stato un piacere soprattutto per me e spero che lo sia stato me ne sono sicuro per i nostri telespettatori chiudiamo questa puntata di Res Pubblica Sicilia chiama Europa proprio con il gearcheologo professore Francesco Torre grazie a tutti voi per averci seguiti buonasera grazie a tutti